Ciao ragazzi e bentornati. Scambio chiesa frattesi. A me viene da ridere perché questa notizia l'avevo letta diverso tempo fa e oggi tutto sport la fa passare come una notiziona, come un grande scoop. È da giugno che martello con chiesa, secondo me più che Goodmanson l'Inter vorrà prendere lui. E Marotta secondo me sta facendo la mossa a Kansas City, cioè tutti che parlano di Goodmanson quando in realtà l'obiettivo è un altro. Facciamo un piccolo ragionamento però riguardante questo scambio. L'Inter vuole chiesa? Sì. Cerca un attaccante con determinate caratteristiche. Perché dovrebbe dare un suo asset, che oggi è valutato 40 milioni, rinforzando una diretta concorrente, facendo uno scambio alla pari con un giocatore che va a scadenza nel 2025 e che negli ultimi giorni di mercato potresti prendere a dei prezzi vantaggiosi mettendo la Juve con le spalle al muro. Cioè da un punto di vista economico e tecnico sarebbe un autogol clamoroso da parte dell'Inter. Poi Marotta a rifilarle sole è un fenomeno. Lo abbiamo visto negli anni passati con Bonucci, Iguain Caldara. Insomma, su queste cose il buon Beppe è sempre stato capace. Però Beppe scuola Galliani e sa che negli ultimi giorni di mercato l'affare lo puoi fare. Quindi, di conseguenza, la Juventus ha un problema. Chiesa, anche lì, è fuori dal progetto. Di fatto non lo vuole nessuno. O meglio, Chiesa vuole un club che possa giocare la Champions League. E, a quel punto, Marotta potrebbe arrivare, andare lì con 15 milioni e dire alla Juve Oh, mancano tre giorni. Li vuoi questi soldi per Chiesa? Altrimenti ti va via a zero e me lo prendo anche lì senza problemi. Facciamoci un favore l'un l'altro. E, con questa cosa qua, tu ti porteresti in casa l'attaccante che volevi. Con le caratteristiche che volevi. E, anche lì, ti prendi un giocatore a un prezzo più che giusto. Anzi, secondo me è un affare, Chiesa, 15 milioni. Considerando che un anno fa lo valutavi 40-35 milioni. Ovviamente, tutto questo si farà nel momento in cui Arnautovic e Correa andranno via. Ti liberi di quei 7 milioni di ingaggio che fanno insieme e ci butteresti dentro Chiesa come se non ci fosse un domani. Ovviamente Chiesa chiede un ingaggio importante. Però, se fai queste due operazioni in uscita, allora sì che puoi andare a prendere Chiesa. Su Frattesi, poi, ragazzi, è un giocatore che per noi è importantissimo. Ma, non è il giocatore che, anche lì, è perfetto per il modulo e il gioco del mister. Chiaro, parliamo di una mezzala, molto brava ad inserirsi e, soprattutto, con tanta gamba. Il mister vuole giocatori che, sì, sappiano attaccare bene gli spazi, ma che sappiano anche giocare di prima e essere veloci in fase di rientro. Frattesi ha delle qualità che gli permettono di essere decisivo quando esce dalla panchina piuttosto che quando inizia la partita. E, segnatevi le mie parole, Zelinsky quest'anno farà molte più partite da titolare rispetto a Frattesi. Per caratteristiche, attenzione, perché Zelinsky è quel giocatore, là, bravo ad attaccare gli spazi, bravo tecnicamente. E, soprattutto, è un giocatore che ti può dare anche molte più opzioni rispetto a Frattesi. Frattesi è perfetto per spaccare in due la partita. Quando la gara va in un certo binario, butti dentro lui che ti dà dinamismo e tempi di inserimento perfetti, e attacco dello spazio perfetto in certi momenti che ti può buttare la palla dentro e farti vincere la partita. Ed è un dato di fatto. L'abbiamo visto quest'anno con l'Udinese, con il Verona, anche con l'Atalanta quando è entrato. Poi Sanchez mette un pallone della madonna, però intanto tu vacci che la palla ti arriva. Insomma, Frattesi è un giocatore che se anche dovessi cederlo, o dovesse veramente concretizzarsi questo scambio qui, non è che stai perdendo un giocatore determinante. Sì, determinante in un certo momento della partita, ma non un giocatore che a gara iniziata possa darti magari quello che dà a gara in corso. Ma per caratteristica e attenzione, poi Frattesi a gol, a anche gli assist, come spacca partita a gara in corso è perfetto. Io non lo manderei via per questo, perché è il dodicesimo uomo ideale. E tante volte questi giocatori scavano più il solco in questa maniera che partendo dall'inizio. Ci sono tanti pro e contro con Frattesi. Però, se l'Inter dovesse prendere Chiesa, certamente non fa uno scambio e soprattutto lo prende gli ultimi giorni quando sa che la Juve è alle spalle al muro. Al muro, scusate. Questo è quello che penso io. Ragazzi, questo era il video. Fatemi sapere la vostra nei commenti, sempre Forza Inter e seguite la pagina per altri contenuti.